a fare se hai capito, ripeto, non è che deve essere inciso nella roccia, ma hai capito che ha a che fare con un narcisista che comunque ci sono dei segnali che puoi avere a che fare con un narcisista. Come agire? Perché poi uno ha capito e poi che cavolo fai? Beh, intanto dovrei fare la prova del 9. Quindi quello che io consiglio, se tu vuoi approfondire, fai la scema, cioè fai la scema, cerca di passare per scema, cerca di passare come una di quelle, però ovviamente senza dargliela e senza fare niente, non devi né dargliela né fare niente ovviamente, ma far finta che gli credi, che creda a quello che dice, che sei una persona coinvolta, cerca di farlo parlare il più possibile per vedere come si espone, perché qua c'è il momento della svolta. Nel momento in cui lui percepisce che tu sei coinvolta, percepisce, quindi io ti suggerisco, fagli intendere che tu sei coinvolta senza esserlo, cioè gli fai intendere che sei coinvolta, ma per verificare, per te deve essere un test, l'importante è che non ti coinvolgi veramente, perché devi fare un test, metterà alla prova il fatto se gli indizi, diciamo, che hai percepito, quindi gli indizi perché faceva l'arrogante con gli altri, perché ti faceva love bombing, perché aveva dei segnali non verbali asimmetrici, il sorriso asimmetrico, perché cercava di farti vivere in qualche modo dei sensi di colpa, utilizzando la comunicazione manipolativa, se tu hai notato tutti questi segnali, dici, guarda, questo al 70-80% sarà narcisista, e allora come fare? Eh beh, prima cosa non mi devo coinvolgere, devo essere indifferente a questa persona, mettiamola alla prova, cerchiamo di metterla alla prova, ma, come dire, stai sul chi va là, tieni le antennine dritte, soprattutto non ti devi coinvolgere, non ti devi far innamorare, e poi lo metti alla prova, non gli fai intendere attraverso le parole, ad esempio, che sei coinvolta, ah, sei una persona fantastica, uh, 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 sei la persona migliore, i, 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 e quindi gli dici, e allora quando noterai che nel momento in cui lui percepisce che tu, ringrazio Cristina, percepisce che tu sei coinvolta, che farà? Inizierà a denigrarti, inizierà a finire il love bombing e a denigrarti, denigrarti in che senso? Un po' a squalificarti, no? Inizierà a non essere più così questo love bombing, a non essere più così coinvolto con te, inizierà, diciamo, a isolarti, inizierà a dire, eh beh, certo che i tuoi parenti sono tutti pezzi di merda, qua l'unico che ti capisce sono io, eh, certo che se tu continui a uscire con i tuoi amici, guarda che mi perdi, inizierà a far ricatti, perché io non posso tollerare che tu esci con dei coglioni come i tuoi amici che non valgono niente, che sono dei cretini, cioè anziché uscire con me, oppure quindi i tuoi amici sono tutti coglioni, tutti cretini, inizierà a denigrarti in questo senso, inizierà a isolarti, no? A cercare di isolarti per poi avere più potere nei tuoi confronti. Ecco che quindi, se arriverà fino all'evento magico, intanto ti suggerisco di non dargliela comunque nel frattempo, non dargliela, la stima e la considerazione, e se gliel'hai data, di smettere di dargliela fondamentalmente, sperando che magari non gliel'hai data, che è meglio. Comunque, diciamo, dopo che inizia a svilirti, a sottovalutarti, a squalificarti, a isolarti, eccetera, passerà a una fase di ghosting, cioè inizierà a sparire e cercherà di sparire per quale motivo? Perché? Cerca di sparire perché non vuole, come dire, vuole farti innamorare di più. E il narcisista sa che il narcisista o la narcisista, intendo, perché questo vale per entrambi i generi, non è soltanto che c'è il narcisista maschio, queste cose che dico valgono per entrambi i generi, e il narcisista o la narcisista cercherà in qualche modo di, come dire, quindi squalificarti e poi sparirà, si allontanerà, farà quello che viene detto, farà quello che viene detto, diciamo così, come possiamo dire, come possiamo dire, quello che viene detto ghosting, cioè la sparizione. Questo è un'altra cosa molto importante, un'altra cosa fondamentale, perché tenderà a fare la sparizione per quale motivo? tenderà a fare la sparizione per tanti motivi, cioè, cosa vuol dire questo? Vuol dire che cercherà in qualche modo di sparire, perché sa che sparendo, cioè somministrandoti l'abbandono, somministrandoti il rifiuto, riuscirà ad avere più potere nei tuoi confronti. Questo è un altro tratto fondamentale, no? E quindi tu devi fare che cosa? Quando questo si allontana, sparisci pure tu, perché allora se si verificano tutti questi eventi, se si verificano tutti questi fatti, allora significa che è veramente una persona narcisista, significa che è veramente, ringrazio Caterina, significa che è veramente una persona estremamente negativa, che è una persona, grazie Caterina, è una persona nefasta, è una persona che non si merita assolutamente nulla. Questo dobbiamo prenderlo in considerazione. No, e allora a quel punto lì devi sparire tu, grazie Caterina. A quel punto lì devi sparire tu completamente, non devi più dargli per nessun motivo la possibilità di entrare in contatto con te e devi gioire, devi godere del fatto che questa persona è sparita, devi gioire, devi godere del fatto che siano andato. Non devi piangere, devi essere felice di questo, devi essere felice. Perché ti sei tolto dai maroni un narcisista, senza colpo ferire, senza coinvolgerti. E questo è importante, perché il vero problema non è che quello è il narcisista, perché il narcisista è un problema suo. Il vero problema è se tu ti innamori di un narcisista, perché allora il problema sarà tuo. Avere incontrato un narcisista non è un problema, perché il problema è del narcisista. E se tu ti innamori che il tuo problema, il problema diventa tuo. Quindi se metti in atto tutte queste strategie che ti sto dicendo, se metti in atto tutte queste cose che ti sto dicendo, riuscirai a evitare di innamorarti di un narcisista. E quindi riuscirai a salvarti, a salvarti la vita, che è la cosa fondamentale, insomma, per quando hai a che fare con questa tipologia di persone. Quindi segui bene queste indicazioni e vedrai che riuscirai a essere sicuramente felice e riuscirai a viverti una vita come si deve. Intanto iscriviti al canale, seguimi ovviamente su Instagram, Massimo Trammasco Ufficiale, naturalmente su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. Va a te iscrivere su tutti i miei canali YouTube. Grazie a tutti.